eccoci buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti scusate ma stavo un po' giochichiando con l'inquadratura con le luci sto sperimentando un po' dai ogni tanto ho questi momenti creativi comunque siamo sul pezzo siamo di nuovo qua l'anno è iniziato e non è cambiato un tubo perché bitcoin è sempre fermo lì no scherzi a parte di cose ne sono successe l'anno che sia concluso è stato un anno estremamente ricco di fondamentali estremamente bullish da questo punto di vista e quindi non posso che essere gasato anche per questo nuovo anno che inizia stamattina vi ho fatto vedere quello che è stato l'interesse no sul sul tema riflesso nel numero di iscritti che quest'anno ha aumentato a dismisura e questo mi fa capire che comunque c'è interesse no se no uno non credo che si sparerebbe questi pipozzi da un'ora tu che mi stai guardando perché ti guardi i pipozzi da un'ora che faccio io sulle cripto spero perché sei interessato ad approfondire abbiamo introdotto un sacco di argomenti di anzi di contenuti proprio finalizzati allo studio ultimamente proprio perché una delle cose che non vi stresserò mai abbastanza con cui non vi stresserò mai abbastanza è che se si vuole avere successo in qualcosa in questo caso chiaramente nelle cripto bisogna sbattersi bisogna studiare non bisogna avere fretta e bisogna essere consapevoli del fatto che i risultati non arrivano subito e quindi io cerco di darvi sempre il materiale per poterlo fare in autonomia corso di defy che adesso andrà avanti con le sue puntate più tecniche più pratiche affronteremo il liquid staking gli auto compounder la defy 2.0 e poi le ultime puntate saranno sulle strategie quindi esempi di strategie di farming a diverso livello di rischio nonché di difficoltà poi 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 non è tutto perché a breve arriverà del contenuto in più non vi spoilerò nulla ma sappiate che io mi auguro che voi siate alla pari con i contenuti perché dovrete ritirarvi un po' di tempo per studiare ancora di più i contenuti aumenteranno continueranno ad aumentare e sapete che insomma spero la qualità rimarrà all'altezza delle vostre aspettative il mio obiettivo è quello di di portare contenuti di qualità che uno si può metterli e studiare nonché imparare non aria fritta né cose inutili né cavalcare i trend o l'hype inutile quindi questo è il nostro obiettivo adesso visto che siamo qui e siamo sul pezzo ricominciamo dalla situazione di bitcoin poi un bel po di cose da dirvi ci sono notizie molto interessanti e alcuni update sui progetti che stiamo seguendo altrettanto interessanti e però le andremo a vedere tutte una alla volta e poi voglio che mi bombardiate di domande come solo voi sapete fare bitcoin iniziamo dal nostro re dove si trova come posizionato esattamente dove l'avevano lasciato ve l'ho detto non ci sono particolari volumi non c'è volatilità c'è un attimino di stasi nel mercato di bitcoin lo vediamo arenato nella zona qua del suo range low i 46 47 mila è lì che fa più 1 per cento poi meno 0 5 poi più 2 poi meno 3 insomma è lì è fermo non c'è tanta tanto spunto operativo no fin tanto che non usciamo da questa sua nuova comfort zone dentro la quale siamo ormai da un mese è passato quasi un mese all'interno di questo range fin tanto che non usciamo con un po di decisione in alto si spera o in basso che sia non avremo particolari spunti operativi la situazione è sempre la solita guardiamo anche il settimanale che urla in certezza pure lui guardate in particolare le ultime candele le ultime candele fanno capire come c'è a direzionalità abbiamo volumi in calo abbiamo candele che si mangiano a vicenda una rossa poi una verde che la mangia poi una rossa che la mangia insomma siamo sempre costretti dentro a questo benedetto range intervallo fin tanto che non usciamo non c'è direzionalità per il momento è ancora preservato il low signore aiutaci perché questo è il nostro baluardo io lo voglio vedere reggere lo voglio vedere difendersi con le unghie e con i denti mi raccomando perché se andiamo a perdere questo low purtroppo la struttura si va a invalidare qualcuno parlava di possibile testa e spalle qualcuno parlava di non mi ricordo cos'altro ma a noi interessa soltanto da un punto di vista proprio di alto livello la struttura che andrebbe a sancire un equal low oppure peggio ancora un lower low ho fatto un casino incredibile volevo soltanto fare un control z ecco comunque ecco invece se la situazione rimane con il nostro higher low quindi andiamo a rompere a rialzo andiamo verso lo scenario più probabilmente accumulativo e la cosa ci piace molto di più e tiene in piedi un po' quella che è la situazione di possibile prosecuzione rialzista in questa prima metà primi mesi o meglio del 2022 perché se bitcoin comunque non dico che deve fare per forza nuovi massimi ma anche se regge questa struttura immaginatevi una un periodo oscillatorio anche non particolarmente rialzista e fomentato di bitcoin ma soltanto dove abbiamo una lateralità oppure ripeto una sorta di accumulazione con un triangolo composto da higher lows e lower highs il mercato comunque ha tempo di crescere le altcoin danno il meglio di sé c'è da farmare ci sono tante opportunità nella defi quindi ci piace molto se purtroppo bitcoin inizia a perdere le sue strutture rialziste mi aspetto che in me questo si trascina un po' dietro tutto e fa danni a catena ci costringe a metterci un po' più a riparo a esporci a meno rischi e avere un'operatività estremamente cauta anche poi nella defi e nel resto quindi osare meno in altre parole detto questo la situazione sul mercato complessivo mi premeva farvi vedere anche quella prima di passare lì però vi sottolineo come stiamo muovendo volumi in questa zona guardate è diventato il point of control di fatto di tutto il periodo che va da dunque vediamo quanto possiamo andare indietro vediamo 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 secondo me addirittura la zona massima accumulazione pazzesco da dall'ultima burran in sostanza la zona 47.000 ed intorni guardate la questo indicatore che spesso mi chiedete con le barre azzurre e gialle è un indicatore che mostra i volumi nei diversi intervalli di prezzo in altre parole ci dice dove è stato mosso di più in termini di capitale su bitcoin in in termini di prezzo no il che significa che tra i 47 e i 50 questa è l'area sono stati mossi i volumi più grandi di tutta la burran nonché del top e questo vuol dire tanto perché perdere quel livello a rialzo a ribasso che sia acquisisce una rilevanza pazzesca perché se lo perdiamo a ribasso ahimè è una distribuzione importante che ahimè ancora di più si va a sommare a quest'altra vedete che anche qui abbiamo una zona di volumi non indifferente distribuzione più distribuzione purtroppo mette una selling pressure importante se al contrario ce l'andiamo a rompere a rialzo scusate mi incasina sempre lo zoom in questo modo questa diventa un'accumulazione pone basi estremamente solide accumulazione perché perché vuol dire che la maggioranza di tutti questi volumi movimentati che sono una quantità estrema vuol dire che è in acquisto e il fatto che è in acquisto significa che hanno accumulato i grossi capitali ovviamente non parlo dei pesci piccoli che pesano veramente poco sul mercato quindi stiamo a vedere che assume sempre più importanza l'area di prezzo e la price action che seguirà proprio in questo periodo vediamo noi possiamo solo osservare e comportarci di conseguenza con massima razionalità poi vi ho detto il total market cap che ci tenevo a farvelo vedere dunque vediamo 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 tac il total market cap anche lui rispecchia un po la medesima situazione abbiamo un un costrutto che qualcuno mi aveva scritto in privato su telegram mi ricordo dicendo ma potrebbe essere questo già un higher low allora è un pelino forzato secondo me considerare già questo un higher low perché secondo me il low non lo abbiamo ancora trovato se dovessimo andare di nuovo ad attaccare il nostro la nostra resistenza 2.4 allora sì è possibile e potrebbe essere anche una bella w che va poi a farci riconquistare il blocco superiore facendo respirare ancora un po il mercato cosa che non mi dispiacerebbe affatto nel mercato dell'altcoin invece ancora atom estremamente carico tra poco guardiamo meglio anche tutti i grafici io ve l'ho detto voglio parlare molto di atom e del mondo cosmos nel 2022 vi porterò video contenenti i progetti più interessanti su cosmos parleremo un po del suo ecosistema perché è un peccato che non ne parli nessuno ed è il momento di andare a superare questa barriera e questo limite me l'avete chiesto anche questo in tantissimi e io vi accontenterò approfondiremo cosmos avete la mia parola d'onore e poi 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 cosa abbiamo il nostro curve che anche lui è uno dei pochi asset che ultimamente sta andando veramente bene lato proprio al coin intendo convex ha un attimino frenato ma perché è molto più esteso di curve ci sta tutto anzi meglio preferisco che questi asset scarichino abbastanza per per avere una crescita un po più sano un po più organica io odio l'iperestensione a prescindere dal dal valore dell'asset cioè l'iperestensione fa male a qualsiasi asset poi abbiamo anche phantom che il layer 1 al momento più in voglia in assoluto che sta andando a rompere i suoi massimi storici contro btc e quindi che dire è un po il trend di questo periodo no frog nation tutta quell'impalcatura che ci sta dietro curve wars e tutta l'impalcatura che ci sta dietro e poi a coda ci sono gli altri layer in particolare atom ultimamente è molto caldo secondo me e basta poi per il resto il mercato abbastanza statico lo abbiamo ben visto io vi ho scovato una chicca oggi che vale la pena conoscere sempre nel topic curve wars ma non solo questa chicca è un nuovo progetto che si chiama dopex allora vedo che qualcuno ha qualche problema di lag mi dispiace ma penso che dunque qua mi sembra che vada tutto bene io ho un monitor della banda per evitare questo e sembra che vada tutto bene comunque torniamo a noi per un po di cose da dirvi ve l'ho detto parliamo di dopex dopex che sembra un farmaco strano in realtà non è un farmaco strano è un aspettate partiamo proprio dalla piattaforma stessa eccola è una piattaforma ve ne ho parlato oggi su vi ho fatto un post su telegram buttando velo lì ho detto sa vediamo se qualcuno mi sviene con sta cosa perché è un po complicato no come topic si parla di opzioni si parla di defy e ci sono un po alcune code no quindi non solo opzioni e defy ma anche tutto un intorno come la governance il w e token e quant'altro adesso ovviamente scommetto che non ama perché aspettate su arbitrum aspettate che switcho infatti 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 forza metamask credo in te ce la possiamo fare eccoci allora dunque refresciamo refresciamo ci dovrebbe essere tutto dai forza peccato completamente acceccato siamo su arbitrum non siamo su arbitrum metamask senti o danza su arbitrum vabbè facciamo una roba ricarichiamo la pagina iniziale e intanto ve lo inizio a raccontare è una piattaforma dove è possibile andare a creare quindi a fare i brighter di opzioni oppure acquistarle opzioni su un o eccole qua su alcuni asset che al momento sono asset di prova non è chiaramente già completa la piattaforma la sarà poi una volta che finisce questa fase di test ci saranno più asset e ci sarà la possibilità che vi dirò tra poco che è il game changer per questa piattaforma qui in sostanza la possibilità di creare opzioni permette a chi vuole farmare di farmare anche con rischio tendenzialmente basso perché si può scegliere lo strike price in due parole l'opzione in particolare l'opzione call è un prodotto derivato che permette di avere un profitto se l'opzione se l'asset sottostante all'opzione alla scadenza ha un prezzo superiore allo strike price l'opzione call l'opzione put al contrario fa guadagnare se l'asset ha un prezzo inferiore allo strike price quindi è una è bullish e una è bearish poi hanno degli andamenti particolari del profitto e perdita ma non voglio farvi un corso sulle opzioni anche perché lo trovate sul mio canale gratuito se vi va quello che vi volevo dire la faccio breve non vi faccio il pipozzo sulle opzioni lo giuro ve lo giuro proprio è che in sostanza con questi asset voi potete fare i brighter di opzioni ovvero coloro che creano e vendono le opzioni e in questo caso si fa andando a depositare ad esempio eth dpx o gom che è il token di governance on quello cross chain insomma quello che non fa il rebase lo andate a depositare tramite manage vedete si sceglie lo strike price e da qui si capisce che se scelgo ad esempio 7000 dollari di strike price su ethereum che adesso vale 3.770 deve fare per due quasi per due per superare lo strike price quindi è pressoché impossibile infatti ci sono 6.3 milioni su questo strike price e alla fine io ottengo un apy su sugli asset che ho depositato pari all'81 e 34 per cento e il deposito è vincolato per un'epoca che ha un mese almeno un'epoca poi si può andare a rinnovarlo epoca dopo epoca e sostanzialmente quello che si può fare è andare a depositare il collaterale così la piattaforma avendo questi collaterali può creare le opzioni chi vuole può acquistare vedete le opzioni call e io di fatto andando a vendere a fare il writer andando a depositare l'asset sto facendo una covered call in diretta perché non è che vendo un'opzione ma ha deposito l'asset sul quale una controparte può comprare l'opzione adesso arrivo al punto in sostanza questo è già un prodotto un protocollo interessante di per sé perché al momento c'è deribit che è il mercato dominante di opzioni sulle cripto ma è centralizzato in defy ce ne sono alcuni ma non c'è un mercato maturo ecco dopex punta essere il primo mercato maturo sulle opzioni il punto di partenza non è nulla di esageratamente folle opzioni defy bello ci sta ma niente di stra innovativo si farma alla grande tra l'altro se il vostro covered call va in perdita alla fine perché chi compra e vende le vostre opzioni va in profitto avete un rimborso del 30 per cento mi pare in token r rdpx eccolo questo qua che r sta per rebate per l'appunto un token fatto per il rimborso quindi questo è il protocollo di partenza su arbitrum quindi è utile per chi vuole farmare conoscendo le opzioni perché qui c'è da sapere quello che si sta facendo ma ci sono i py su ethereum che sono rari da trovare avevamo parlato di katana l'ultima volta che permette di fare cose simili su solana con sol m sol e altri sottostanti ma katana non ha questa varietà di strike price e inoltre ha degli apy molto più bassi e non ha il rebate al 20 per cento che succede se è rifresciata da sola non ha il rebate al 20 per cento delle perdite eventuali allora ritorniamo aspettate che secondo me è brave che la fa abbastanza sclerare ok ritorniamo indietro perché adesso facciamo lo step successivo ok qui quindi si in sostanza se si vuole farmare si va a dare il collaterale si inizia a farmare i token dpx il futuro di dopex sono quelle delle opzioni nuove che ha rivelato proprio l'uno di gennaio su twitter vedete ha fatto un tweet l'uno di gennaio proprio e si chiamano redacted vault sono delle opzioni sui tassi di interesse qui seguitemi perché è importante per capirlo capisco che è un po un tema avanzato ma provate ad assimilare qualcosa e a capire il quadro generale so che sarete già scappati ma spero di no perché so che ormai il livello sta crescendo anche in voi e quindi sono sono convinto che avrete sarete sul pezzo anche alla fine allora facciamo uno step alla volta le opzioni sui tassi di interesse cosa sono allora immaginatevi curve o un'altra defi facciamo curve per essere concreti perché poi saranno proprio su su curve curve ogni due settimane abbiamo detto fa le votazioni per cambiare le ricompense quindi cambia i tassi di interesse con queste opzioni sarà di fatto possibile andare a scommettere sui futuri tassi di interesse di curve di ogni gauge di curve quindi del pool meme nel prossimo giro ci sarà più o meno apy rispetto ad adesso ed è quello un po che racconta all'interno di questo thread ok vedete sostanza tu stai scommettendo su questo numero che va su giù o rimane uguale le apy di ogni pool su curve pagate in crv questo che cosa serve beh serve a una cosa no da parte di chi fa i bribe sapete il discorso dei bribe no che si va un po corrompere a comprare voti per andare a manomettere a nostro vantaggio gli apy su curve quindi chi va a fare questi bribe può o avere un edge quindi coprirsi nel caso in cui non vada come previsto non lo so io appunto ad avere un apy più alto ma qualcuno fa un bribe più alto del mio e non ce la faccio allora con l'opzione supponiamo fa una put sul tasso di interesse mi copro e ottengo un profitto da lì oppure se sono talmente convinto che i miei bribe sono i più grossi di tutti allora andrò ad acquistare una call sul sul futuro apy di quel pool vado a bribeare come un pazzo e guadagno in leva perché guadagno le apy guadagno dalle opzioni e quant'altro il tutto questo protocollo è governato dal token dpx vediamo se è tutto scritto qua oppure no mi sembra di sì poi magari vi lascio il tutto il thread e dunque dunque vediamo eccolo allora il token dpx è locabile diventando v e dpx esattamente come curve e vcrv le fee del protocollo sono distribuite ai locker quindi ai detentori di v e dpx e inoltre chi ha il v e dpx ha la governance power sulle opzioni sui pool di opzioni sui tassi di interesse quindi sostanza deciderà quali opzioni verranno create qual dove andrà la liquidità del protocollo e tutto ciò che riguarda la governance ok quindi è importantissimo avere questi token v e dpx per governare il protocollo e per avere un ruolo attivo nella creazione di queste opzioni stiamo andando molto in profondità ma è dove c'è informazione di valore no adesso vi avviso già che è un token molto esteso quindi fate molta attenzione perché in molti sono già in fomo sono già andati in fomo però queste opzioni hanno sono già lanciate quindi di fatto hanno effettivamente un prodotto in arrivo e sono proprio curioso di vedere come tutto ciò andrà a combinarsi insieme perché se davvero si presenta uno scenario del genere non solo per dpx ma anche per i soliti crv e cvx che alla fine sono fondamentali nel gioco delle curve wars perché se andiamo ad avere anche queste opzioni sui tassi di interesse che incentivano a braivare ancora di più porco cane i bribe si fanno in cvx e di fatto alla fine c'è sempre il vie crv 1 come token da manomettere e quindi la domanda è per cui i token lì c'è poco da dire e indirettamente visto che ci sono si dice non so dove l'ho letto ma l'ho letto da qualche parte c'è di mezzo anche redacted non a caso proprio perché il nome di q1 2022 è anche redacted volt si chiama proprio non a caso e sono in collaborazione in qualche modo non ho capito bene come ma c'entrano qualcosa quindi anche la nostra farfallina dovrebbe quantomeno giovarne ma lì c'è un sacco di mistero ancora si capisce poco ma la farfallina è interessata anche a ottenere i bond su dopex su dpx proprio per avere controllo anche su questo stesso protocollo quindi io adesso non vi sto a far troppo una testa così c'era anche quest'altro thread interessante che risale a prima dell'annuncio delle delle opzioni sui tassi di interesse che racconta un po quello che vi ho detto io ok quindi spiega il modello v edpx spiega il discorso di chi c'è dietro come intenzione di giocarci ecco infatti will ugly start accumulate dpx by offering bonds quindi probabilmente inizieranno ad offrire i bond eccetera 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 tutti molto contenti e quant'altro no quindi attenzione anche al fatto che questo trend potrebbe essere ancora in forte crescita nei prossimi mesi non intendo comprate dpx mi raccomando perché è già molto esteso ma osservate il quadro generale cercate di capire no quello che sta accadendo dietro le quinte a proposito sempre di questo topic ci sono delle novità anche lato dove 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 qua lato tokemak che anche lui ha un ruolo che è ancora lui è ancora più dietro le quinte non capisco perché ma probabilmente perché è ancora più meno conosciuto è meno mainstream del discorso curve wars ora parlano tutti delle curve wars ma c'è la possibilità concreta secondo me come vi avevo detto nel video che le curve wars possano estendersi e diventare anche le tokemak wars non nel caso in cui questa piattaforma di fatto dovesse superare una certa massa critica ne abbiamo parlato nel video dedicato e dunque anche va beh ovviamente il suo fondatore è di quest'opinione quindi dirà che il il 2022 è l'anno della liquidità le tokem wars eccetera e poi è stato interessante il fatto che il buon redacted si è si sta cercando di infilare dentro anche alla governance di tokemak questa è una conversazione licata da loro stessi proprio su su twitter dove dicono we want to go balls deep with token bonds quindi vogliono infilarsi in profondità quindi andare a riempirsi anche di bond di token vendere i bond di token per ottenere il token di fatto e poi sulle novità allora novità interessante perché guardate ogni tanto sul loro discord c'è questo tokenbase.org che propone le notizie ogni ogni settimana leaky sunday e vi prende in pillole quello che viene detto su sul loro discord quindi per chi non ha voglia di stare a spulciare discord loro il loro discord è un utile riassunto diciamo e allora leak numero uno sta scrivendo un articolo su bankless insomma un po di pubblicità leak numero due stanno sistemando la loro riserva il design della loro riserva che ci sono questi reattori che per stabilizzarli volevano utilizzare anche le stable coin e questo è il loro concetto di riserva tuttavia il fatto che c'è la c di curve maiuscola fa fare fa pensare a rumor qualcuno dice che ci sarà il modello via toche anche qua per le reward bustate oppure ci saranno magari gli lp di curve utilizzati come stabilizzato non lo so vedremo poi un utilizzo segreto di toche qui dice probabilmente non sapete gli altri usi di toche perché non ve li abbiamo mai detti bravo hype qui ha preso da justin sun come come hype poi stanno discutendo un buyback un programma di buyback di toche stesso quindi migliorare un po le tokenomics ci sarà un airdrop insomma tante cose carine interessanti qua c'è un flusso un po del funzionamento ma la cosa più interessante è proprio il buyback di toche e soprattutto la possibilità l'idea di creare questo vie toche che darebbe una un bel boost alla sua tokenomics io sono di parte ve l'ho già detto sono abbastanza bullish su questo progetto ma vi invito chiaramente a fare i vostri approfondimenti perché è difficile è complicato è di frontiera e comunque ancora in early stage c'è ancora tutto quanto da dimostrare però come sempre si può fare due cose no cavalcare i trend già all'apice come metaversi annafetti e robe folli oppure cercare di studiare quello che potrebbe emergere in futuro e muoversi chiaramente sempre con razionalità e cognizione poi su questo abbiamo terminato non vado troppo lungo perché sono argomenti tecnici e non vorrei essere troppo noioso quindi poi eventualmente approfondiremo in seguito un po alla volta piccole dosi a proposito di atom guardate osmosis ha quasi raggiunto il miliardo di liquidità siamo a 993 milioni volumi sempre in crescita grazie al fatto che attraverso ibc si muove sempre più liquidità e quindi questo fa capire come l'attività su nel mondo cosmos è crescente motivo per cui ripeto vale la pena anche approfondire qualche progetto perché se vi chiedessi quali progetti su cosmos voi conoscete non lo so punto interrogativo alzate la mano e ditemelo perché secondo me purtroppo se ne conoscono ancora pochi magari giusto osmosis non lo so però vale la pena conoscere ad esempio juno parla di smart contract arriverà e vmos gli smart contract sempre su etereum desmos l'abbiamo già visto l'identità digitale social network e quant'altro ce ne sono ce ne sono tanti e quindi li approfondiremo comdex che è una piattaforma di nfd e simili insomma ce n'è da parlare ne parleremo faremo un video dedicato ai migliori progetti su cosmos poi questo ve l'ho già detto tornando invece alla frog nation andando o meglio alla frog nation c'è un upgrade perché è stata proposta nella governance di wonderland la mozione per andare a creare un liquid staking di avalanche liquid staking è come marinad con solana quindi tu depositi sol lo metti in staking o tieni a me sol con avalanche si può fare una cosa simile perché alla fine è sempre un post e anche lo vuole estendere in futuro avevo letto a phantom non vi sto a fare il pippozzo anche qua su tutto ma l'aveva detto daniele no ci manca il liquid staking mi interessa avere anche il liquid staking e lo vuole integrare in qualche modo all'interno di wonderland ok quindi questo è il l'idea di di andare a creare un simil lido no la dap di liquid staking integrata all'interno del suo ecosistema questo è quanto poi vabbè samsung annuncia che nelle prossime tv ci saranno gli nft molto bene hanno ti quelle notizie che a me non fanno mai impazzire però ve la condivido perché può essere interessante nativamente integrati la funzionalità nft in alcune delle tv di prossima generazione della samsung in particolare acquisto vendita conservazione nonché flex quindi mostrare gli nft stessi poi perché ho aperto ftx ah sì perché c'è una promo se vi interessa se non avete l'account su ftx e avete voglia di crearlo se ne create uno nuovo e facete facete addio buonanotte potete bastonarmi per questo e fate almeno un trade di un sand sulla coppia sand usd potete partecipare a un'estrazione di 10 sand di fino a 10 sand so che molti di voi sono gasati con the sandbox qui nonostante siamo estesi non so quanto e quindi potete ottenerne fino a 10 gratuitamente visto che ce n'è un totale di 10.000 quindi premieranno 10.000 utenti immagino che non sia così difficile vincere sinceramente perché 10.000 utenti nuovi che fanno un trade su sand kyc e tutto quanto non lo so secondo me ripeto è una possibilità aspettate che vi scillo il referral link di ftx se vi interessa avere anche uno sconto del 5 per cento sulle fee per sempre al di là di tutto perché comunque ftx è un ottimo exchange a prescindere da ogni cosa e quindi basta direi che possiamo chiudere la zona la shill zone e la zona notizie ritorniamo su bitcoin eccolo ce lo teniamo qua dietro e andiamo avanti con le vostre domande è il momento delle domande allora questo lo posso chiudere torno da voi torno da voi torno da voi allora eccoci qua per ritornare al discorso vmemo della scorsa live mi chiedo dove sia possibile utilizzare vmemo e metterli a rendita dal momento che i mim che si possono prendere in prestito su abracadabra sono esauriti grazie mi pare che ci sia non so se c'è ancora su trader joe il pool vmemo qualcos'altro mi pareva di sì perché altrimenti l'unico era su abracadabra facendo attenzione alla liquidazione mi raccomando perché è estremamente volatile vmemo fate i bravi qual è il miglior modo oddio mamma mia quanti quanti siete oggi qual è il miglior modo per mettere usp a rendita su anchor partendo da euro sul mio conto in banca quali passaggi fare se passare da uno più exchange se acquistare prima una coin allora io farei io farei io farei dunque acquistare bitcoin cioè bonifico su ftx ftx cambiare euro in bitcoin prelevare bitcoin verso binance su binance c'è usp quindi comprare usp e prelevarlo su terra station e metterlo a rendita su anchor io direi direi così direi così ciao luke quando un tutorial approfondito su bribe curve wars e farming in opzioni farming in opzioni ne potremmo parlare in maniera più approfondita bribe curve wars secondo me se ve ne parlo ancora vi viene il vomito quindi ci vado un attimino piano qual era la bomba per il nuovo anno non siete ancora pronti ragazzi non siete ancora pronti state sereni arriverà quando meno ve l'aspettate arriva tra pochissimo quindi ai pipe più ai allora 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 luca dice atom curve to che queste tre volano volano addirittura siccome non ha la palla di cristallo bugiardo eccola qua ce l'ho ce l'ho ce l'ho vuol dire che smuove il mercato chi mi si fila cosa vuoi che smuova che se va bene smuovo non lo so cosa smuovo il sugo nella padella e in italia lo può fare solo lui magari in combuta con qualcuno estero no ragazzi state tranquilli che non c'è nessuna nessuno smuovimento semplicemente è non è difficile accorgersi di cosa sta succedendo dietro le quinte se si sta si sa dove cercarlo io lo cerco lo guardo ve lo condivido a volte magari ci si azzecca come in questo caso a volte no perché non c'è certezza anche lì no io vi condivido quello che accade quello che vedo che accade dove vedo i fondamentali è tutto lì ragazzi ve lo giuro non c'è nessun tipo di di sponsorizzazione nessun tipo di combutta strana ma è un puro condividere con voi quelli che secondo me sono i trend in arrivo anziché i trend già in apice io preferisco agire in questo modo e nell'ultima live vi ho parlato un po no dei nuovi dei nuovi trend in arrivo a parte il discorso curve wars eccetera atom insomma abbiamo l'abbiamo visto allora 25 per cento di l tv su tectonic è tanto per evitare il rischio di liquidazione no 25 per cento è giusto mi sembra giusto dipende dall'asset però 25 per cento mi sembra assolutamente safe assolutamente safe e se fosse un bluff ethereum 2.0 cosa un bluff un bluff assolutamente no impossibile ethereum 2.0 super bullish super bullish ma per investire in token mac redacted eccetera bisogna avere grossi capitali per giustificare le fie elevate purtroppo sì ragazzi se si vuole fare le operazioni di stake and stake bribe e quant'altro ahimè ethereum ethereum è molto selettivo nel bene nel male è molto selettivo e purtroppo holdando le coin senza usarle attivamente ci si perde tanto tanto davvero tanto perché è il massimo no di parlando di curve convex token non ancora però magari in futuro sì però curve convex sono degli asset estremamente produttivi perché si mettono a rendita ti danno anche altre coin puoi scegliere con i bribe puoi avere anche le stable come rendita di dello stake di queste coin cioè sono potenti è veramente un peccato veramente un peccato comprare atom con moneta fiat un exchange senza kyc impossibile impossibile ragazzi impossibile ciao come compro giuno state fermi ragazzi state fermi vi prego non mi mi andate in fomo gratuita non mi andate in fomo gratuita state buoni state prima studiate che cos'è poi potete andare a voi a cercare come comprarlo perché se mi chiedete questo vuol dire che non avete neanche guardato che cos'è ragazzi vi prego vi prego bevete un po d'acqua ghiacciata beviamola insieme guardata acqua ghiacciata stiamo buoni yield reserve su anchor allora yield reserve su anchor vediamo se sta ancora dampando dove era mirror tracker vediamo vediamo cos'è c'è un nuovo grafico comunque sì stiamo dampando 68 milioni 68 milioni ma dunque questa linea che cosa sarebbe ragazzi non lo so linea a caso magari una media mobile va bene in ogni caso no non è vero perché se converge qua in ogni caso ripeto è in calo quindi qualcuno deve far qualcosa prima o poi altrimenti l'ipy diminuisce e nessuno vuole che diminuisca questo bellissimo ipy vero no scherzi a parte o il buon danielone visto che è il principale vampiro della della yield reserve di anchor ci va a mettere un suo cipino o magari una parte della treasury di wonderland non lo so o altrimenti terraform labs fa qualcosa e quel qualcosa potrebbe anche essere la riduzione dell'ipy però di certo non si può andare avanti all'infinito così perché altrimenti la yield reserve inizia andare un po in in sofferenza per adesso non c'è ancora da temere più di tanto e sono sicuro io massima fiducia in entrambi daniele e do quon quindi sono sicuro che ci hanno pensato cioè non penso che abbiano implementato i loop di abracadabra non per dicendo a me ma la yield reserve ma si vedrai che rimane stabile impossibile ci avranno pensato per forza quindi avranno anche presumo una soluzione vero vero do quon vediamo vediamo allora buonasera ma se uno volesse vedere i nuovi play to earn in uscita dove può guardare non lo so non lo so sai non lo so ho smesso un po di seguire quel quel trend hai messo qualche cipino su liquid su liquid che ne pensi allora liquid driver è interessantissimo perché è un po porta il topic delle curve wars anche fuori da ethereum no non ce l'ho messo ad essere sincero lo sto seguendo con interesse è molto esteso ha fatto tipo quasi per 10 in meno di un mese è il modello curve convex no liquid driver si appoggia spirit swap spirit swap ha in spirit e in spirit che è ve lo faccio anche vedere se andiamo su spirit swap che è il dex no principale su phantom opla connect vabbè non serve vedete che si può alloccare spirit e trasformarlo in in spirit è esattamente il modello di curve identico tuttavia il tvl di spirit swap è ancora basso perché stiamo parlando di 230 milioni ok quindi non c'è minimamente paragone con curve poi curve avevo letto da qualche parte non mi ricordo dove di nuovo aspettate che io di solito tengo tutti i mi salvo tutti i tweet interessanti come segnalibri ma a volte mi si bugga twitter e non me li mostra questo il pipozzo di vitalic tra l'altro me lo dovevo ancora leggere non l'ho ancora letto allora bridge alert figo anche questo da terra osmosis si può brigiare direttamente non vi ho detto neanche questo che redacted ha fatto una una richiesta nella loro dao per acquistare una parte della supply di curvans al loro lancio ne abbiamo parlato di curvans nella scorsa nello scorso live allora aspettate facciamo così likes perché di sicuro gli ho droppato il like gli ho droppato il like dove sei dove sei dove sei dove sei dove sei c'era curve che voleva andare cross chain ah no mi sa che non ho droppato nemmeno il like vabbè avevo letto che curve voleva implementare anche il le gouge quindi il volvi vcrv il voto eccetera sulle altre chain quindi sinceramente io sono sempre più per i grossi giocatori che per le minore imitazioni non dico che non avrà successo è il discorso di liquid driver spirit swap ma è un po' il fratellino minore di curve convex quindi io mi concentro diciamo sul grosso preferisco qui è una giocata più speculativa e infatti si è visto con l'andamento grafico anche di liquid di liquid driver e un'altra roba che avevo letto che comunque anche le grosse dao di ethereum vogliono mettere mano anche in liquid driver avere un po il potere anche lì credo che alla fine i giochi primi giocatori quindi quelli che si stanno un po imponendo ora che per me sono appunto convex redacted come grossa dao olympus dao di conseguenza sicuramente anche daniele con wonderland vorrà la sua fetta vuoi con una partnership vuoi a modo suo ma sono un po quelli grossi giocatori credo che cercheranno di avere un po di propaggini ovunque un po di influenza ovunque più che avere giocatori minori ecco avere un po potenziali competitor non so non so neanche come definirli comunque ecco io ora sto ragionando un po così poi dunque dunque mamma mia siete veramente in tantissimi per portare ust su ancora hai detto di spostare btc ma non sarebbe meglio usare matico altre coin confibasse da ftx i prelievi di btc sono gratuiti per quello te lo dicevo perché ftx accetta il bonifico quindi fai euro ftx bonifico conversione in btc con le fide lo 0 0 7 per cento neanche col mio col mio referral anche meno converti in btc prelevi btc gratuitamente verso binance converti in ust prelevi ust con le fide terra basta questo è il procedimento secondo me market cap del token di redacted supererà quella di time solo dio lo sa ragazzi solo dio lo sa non ne ho la più palli d'idea però io credo che tireranno fuori qualche sorpresa secondo me perché ci sono un po di personaggi intriganti lì dietro vediamo vediamo allora secondo te faccio bene a comprare toque su max global max global mi sembra un buon exchange ne ho sentito parlare bene sul comprare toque o no è ragazzo mio ragione ci valuta tu perché sai nessuno ha la sfera di credito io ti parlo dei fondamentali sul prezzo non so nulla quindi io ti dico ho studiato i fondamentali mi piacciono ci sono delle variabili che di cui ho parlato all'interno del video potrebbe aver successo potrebbe floppare il prezzo ragazzi solo lei lo sa questa lei è l'unica detentrice del sapere sul prezzo futuro è no idea sul prezzo io posso soltanto tirare a indovinare adesso non so ne ha perché non ci sono non è listato sui principali exchange quindi si fa anche fatica a vedere come si sta muovendo cioè si si può guardare il grafico di coin market cap ma è abbastanza un insulto sto grafico qui cioè vedete che non lo so market dov'è che un di swap principale sushi swap e poi si exchange minori non so ragazzi non ne ho la più pallida idea assolutamente assolutamente allora 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 ma lo mando da binance direttamente su terra station non è meglio che cosa usp sì sì direi di sia per forza puoi farlo puoi farlo tranquillamente puoi direi proprio di sì come vedi token ancorati agli asset di borsa come snx e mir guarda snx e mir non sono non li ho approfonditi i token stessi ma i loro sintetici a me non dispiacciono sono un buon modo per esporsi sull'azionario attraverso la defi no se uno vuole avere l'azione una quota di azionario senza aprire account su broker è un buon modo è assolutamente un buon modo lag alla live ma ho notato ho notato sai purtroppo mi sa che è twitch perché io vedo qui che mi va a 910 megabit la band in download e 190 in upload quindi non dovrebbe laggare cioè me lo auguro altrimenti non ho idea e stiamo andando in neanche in 1080 secondo me lo stream lo stream a quant'è si può scegliere la risoluzione sia 1080 ma si può scegliere potete cliccare sulla rotellina delle impostazioni e scegliere la risoluzione allora allora amici miei andiamo avanti andiamo avanti vediamo dunque ciao luca dei fondi disponibili su crypto.com che vorrei investire altrove sono indeciso se metterli su bitpanda sull'index 25 metterli su anchor per gli ust a rendita che dici amico mio sono due cose diverse una sono stable coin una ti espone al mercato delle cripto devi chiederti che cosa vuoi e agire di conseguenza se ti vuoi esporre si si va sull'indice se non ti vuoi esporre vuoi rimanere passivo si rimane in stable assolutamente luke ma se il profilo su ftx l'ho aperto circa una settimana fa sempre con il tuo link movimento send rientro nella promo secondo me sì secondo me si fammi verificare fammi verificare allora aspetta che ti condivido anche lo schermo eccolo allora 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 intanto il la promo vai a vedere il messaggio che ho mandato su telegram perché ci sono ci sono da fare 22 step in più c'è da fare anche un da compilare un form dunque 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 mi sa di no sai nuovi utenti che fanno il sign up durante il periodo promo quindi a partire da oggi mannaggia no mi spiace mi spiace perché sono elegibili solo quelli che si iscrivono a partire da oggi entro il 17 1 mi spiace ahimè allora tac 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 allora allora ma di coin list hai un'opinione si positiva è un buon exchange coin list dirai poi ci sono tutti le vendite le ico che fanno 100.000 per mannaggia 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 allora dunque dunque ma quando gli asset continuano a comprare come ti comporti con i tuoi pack continui a comprare anche in all time high vedi luna sono giorni che sono fermo ad osservare guarda non cambia nulla la mia strategia quella e rimane quella sia che siamo in all time high sia che siamo in all time low poi ribilancio ma se un pack è un pack perché funziona così come l'hai impostato tu poi avevo fatto un video dove spiegavo anche dei diversi pack no delle varianti magari dove quando ci sono dei trend di un certo tipo ci si comporta diversamente ma tendenzialmente non non come si dice non non modifico la mia strategia stai laggando stai laggando mi spiace ragazzi giuro non 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 so che dire non so che wind ha problemi io sono sono vodafone tra l'altro non non sono nemmeno wind non lo so che che sta succedendo non ne ho proprio idea dunque dunque perché btc da ftx a binance ha le fi gratuite non si tratta di no ftx ai prelievi gratuiti di cripto e tranne rc 20 a meno che non avete 25 ftt in staking in tal caso potete prelevare anche gli rc 20 gratuitamente solo ftx fa ste robe qua tanta tanta roba cioè ti paga lui le fi di transazione dunque dunque ci sono exchange minori che possono raggiungere i livelli di bainance a critto.com dunque minore non saprei io parli come token come qualità come qualità alla fine ftx è l'unico che ci vedo dentro nella nella triade cosa ne pensi di v network che del suo token non non lo conosco sai non conosco purtroppo purtroppo non conosco cro andiamo a vedere cro cro btc no cro usdt cro btc e ultimamente è uguale cro btc è un po laterale bisogna vedere da che parte vuole andare adesso è un deve deve trovare una nuova struttura secondo me e mi spavento un po il fatto che è qui che fluttua in aria e non lo so potrebbe scendere potrebbe salire o lateralizzare no scherzi a parte purtroppo il fatto è che non ci sono particolari supporti l'unica area delimitata è questo range e quindi al momento bisogna vedere se vuole ritracciare ulteriormente oppure no mi sembra un po presto fare qualsiasi operazione la vedo un po così ftx ex blocfoglio prelievi rc 20 gratuiti è interessante hai fatto qualche video tutorial su ftx certo che sì certo che sì se tu scrivi ftx trovi il mio videozzo beh amici 53 minuti che dite andiamo a vedere 22 al coin due grafici se vi lagga abbassate la risoluzione a 48 addirittura a proposito di exchange minori ma i bit di bit dao non sono legati alle 6 bravo bravo esatto anche by bit è ottimo e i bit in effetti sono ottimi per partecipare alle anche ai launchpad tra le varie cose poi dietro a bit dao c'è dentro anche alla meda perché avevano fatto una sorta di partnership non so come sta andando guardiamolo da trading view bit eccolo tac e adesso è ripartito un po però sì no non è male non è non è male come come asset secondo me proprio perché comunque è un po un piccolo bnb no non vuol dire che arriva al valore al prezzo di bnb però diciamo che sta cercando di seguire le sue orme e dietro comunque a delle aziende e personaggi di rilievo quindi questo è assolutamente un un plus phantom allora phantom l'abbiamo visto prima l'abbiamo visto prima che ha rotto il suo all time high ha rotto anche sul settimanale e attualmente qua proprio la zona 4008 ed intorni sul settimanale è l'area più allettante lato quando ritracciamento quando ritraccerà sicuramente adesso rincorrerlo che massimi dopo massimi non è un'idea saggissima però quando ritraccerà un occhio 480 ed è subito live alla sandbox proiettati nel futuro esatto esatto con i pixel no pixeloni grossi così pixeloni grossi così potresti vedere il grafico di crv andiamolo vedere crv allora crv btc si sta iniziando a estendere un po è anche il settimanale quindi non lo so inizia a piacermi meno questo non è più attuale aspettate e lo giro così ma non lo so cose diagonali lasciamole perdere che lasciano il tempo che trovano volevo tracciare qualche livello come ad esempio questo non rosso ma giallo poi possiamo metterci qua un livello e gli altri sono tutti sul daily perché sul settimanale ha fatto ben poco sul daily c'è da dire che i massimi crescenti non sono aggressivissimi e quindi non è nemmeno malaccio il retest potrebbe essere 11006 questo 10.002 insomma sì ci sta è il discorso del buy the dip qua volendo seguire il trend speculativamente perché il trend crescente ed è anche non è ancora parabolico non si capisce se ha voglia di diventarlo oppure se ritraccerà un po ma qualora dovesse ritracciare ce la vedo abbastanza dentro la possibilità di andare a fare qualche entry no sui supporti precedenti benissimo benissimo bit resiste bene è vero resiste bene c'è da dirlo c'è da dirlo con queste risposte mi fa innamorare di ftp più di quanto si è innamorato di croi bnb adesso vado a cena buona serata buona cena e buona serata anche a te ma io ho il 2 ftp da un sacco di tempo e ve l'ho sempre detto ragazzi affetti ftx in generale è un gran bel exchange tra l'altro andando a vedere ogni tanto mi piace non riguardare un po nel passato e andare a cercare i miei vecchi video quindi cercare tipo di ftp proprio e guardate che c'è il mio video di un secolo fa dove io ero ancora uno sbarbatello clamoroso tac 12 febbraio 2020 e avevamo visto parlavamo proprio di ftp valeva 2 dollari e 55 che bel throwback che bel throwback e tra l'altro mi avevate dato del marchettaro clamoroso marchetta marchetta eccetera eccetera sembra una sponsorizzazione non ti sei venduto in ragazzi le mie scillate sono sempre a fin di bene lo sapete perché ero entrato da poco mi pare proprio su ftp ha detto sono gazzatissimo lo condivido vabbè niente detto questo amici miei siamo arrivati al dunque siamo a un a un ora abbiamo visto tutto grafici direi che ne abbiamo visti abbastanza btc mi piacerebbe inventarmi qualcos'altro da dire ma sapete bene com'è la situazione la solita deve assolutamente dimostrare che stiamo accumulando dai voglio vedere questa cosa e divento di nuovo super mega bullish altrimenti se perdiamo il nostro supporto e facciamo un lower low ahimè diventa un po più complicato essere bullish ma la diciamo che il il baluardo finale rimane sempre qua giù 35 mila l'entri di michael sailor mamma mia proviamo andare a vedere come ultima cosa su binance che è dove c'è il mercato spot più maturo allora vabbè a parte ovviamente quella zona qua e vedi lato spot il il massimo livello guardiamo anche sul weekly cos'è sta roba i miei scarabocchi no volevo mostrarvi come lato spot se andiamo a vedere i volumi abbiamo tre aree una due e tre e la più grande lato spot rimane sempre i 35 mila quindi questa è una zona di accumulazione molto forte tra cui il nostro michael sailor e poi abbiamo quelle che abbiamo detto prima come zone rilevanti lato accumulazione distribuzione e quindi bisogna bisogna fare attenzione a questi tre livelli sono loro un po che adesso decretano l'andamento del mercato oltre alla price action conseguente all'approccio a tali livelli bene amici direi che vi ho dimostrazione su convex e votium non è difficile questo non è affatto difficile e poi che te devo dire insomma di sganciare centinaia di dollari di fisso lo scopo dimostrativo non so se sono proprio contento possiamo farlo su su testnet se si può luke vuoi darmi un parere sul mio portafoglio mana send tvb xrp enge vet link sol matiche pochissime shiba grazie mille chiudiamo così che te devo dire siamo siamo in pieno in piena fomo mi sembra ripple poi perché ripple quando vedo ripple in un portafoglio io rabbrividisco rabbrividisco non lo so non lo so io non è dicendo il mio portafoglio ideale ma non c'è btc tra l'altro cioè sono tutte al coin pochissime shiba vabbè che dire è un pelino frammentato un pelino speculativo un po esposto in al coin qualcuna buona c'è perché sol matic non sono male send mana quelli lì sono molto estesi molto in trend però potrebbero non essere male neanche loro engine pure vet non è male link neanche lei però tutte al coin così non lo so mi sembra un minimo high risk vabbè basta ragazzi io vi saluto vi tiro con un tvb a tutti esatto come quando andavo al liceo io le dediche sul diario tvb basta dopo questa perla io vi saluto per davvero noi ci rivediamo mercoledì voi state pronti tenete gli occhi aperti perché in questi giorni si droppa la bomba e il super super annuncio vi sto annunciando un annuncio proprio hype all'ennesima potenza e tvttttb esatto divastante è un throwback incredibile e basta ragazzi buona serata fatti bravi ci vediamo mercoledì in live domani con un nuovo video devo ancora capire quale ma lo capirò e spero di non soccombere domani alla terza dose visto che l'ultima volta ho avuto più o meno 39 di febbre per un giorno potrebbe saltare la live di mercoledì vediamo e basta fa i derivati sugli annunci esatto basta ragazzi buona serata a tutti e alla prossima